Jerry Cardinale Patron del Milan, non soddisfatto di Pioli, Ibraimovic sua voce in Italia. Vi parliamo adesso delle dichiarazioni del presidente del Milan Jerry Cardinale presente al forum del Financial Time insieme a Zlatan Ibraimovic che di fatto è stato promosso a suoi occhi sul campo a Milano. Di fatto un investitura a 360 gradi che ha posto l'ex calciatore sopra chiunque nell'organigramma della società milanista, affermazioni che sono state lette come una sorta di esautorazione anticipata dell'allenatore Pioli che però ha preferito non replicare. Ricordiamo che si parlava di una sua sostituzione già a dicembre. Zlatan a questo punto ex amico di Pioli, ha di fatto appoggiato in toto le dichiarazioni della proprietà. Dichiara Cardinale. Amo San Siro ma la domanda è, possiamo migliorare? Io dico di sì, abbiamo esperienza nel costruire stadi e quindi farò una compagnia per costruirlo e poi aiutare gli altri club italiani a costruire il loro impianto. Non soltanto di uno stadio ma di un campus di intrattenimento multimediale in stile americano. Da un lato voglio vincere lo scudetto, dall'altro aiutare la Serie A a colmare i gap con gli altri tornei. Voglio vincere più di chiunque altro. Cardinale sul ruolo di Ibrahimovic. Mi permette di essere negli Stati Uniti e allo stesso tempo di essere a Milano. Ha l'autorità di essere la mia voce al Milan con giocatori, staff e chiunque. Ha una credibilità che nessun altro avrebbe avuto. Abbiamo una visione simile. Cardinale sull'allenatore Pioli. Bisogna sempre evolversi, non siamo soddisfatti di non essere primi. Siamo una squadra giovane e con tanti giocatori nuovi, non facendo male non significa che stiamo facendo bene. Ci sono stati tanti infortuni, i giocatori sono costantemente sotto stress per le troppe partite, non ce la si può prendere solo con lo staff medico.